Buonasera a tutti. Ieri sera intorno alle 10 una nostra compaesana è stata visitata al 118, è stata portata in ospedale per degli accertamenti per un sospetto caso di Covid-19. È stato fatto il tampone e poco fa il direttore sanitario, dottoressa Marcella Santino, mi ha comunicato che il tampone fortunatamente è risultato essere negativo, quindi cioè non è un caso sospetto di coronavirus. E pertanto auguriamo come cittadinanza alla signora una pronta guarigione. Detto questo, dobbiamo attenzionare alcune situazioni che si stanno verificando. moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene, moltissimi lo scrivono su Facebook nei messaggi, ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il viso e il fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie e se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il parrucchiero a domicilio? Ma questi capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Ve lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta, perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia? Tutti che vogliono correre? Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestra, la scuola elementare, ma dove andate a correre? Ma vogliamo fare le persone serie? Mi chiamano sindaco, io devo andare a Canicattì a fare la spesa. A Canicattì non ci puoi andare a fare la spesa. La spesa la fai a Delia. Salvo che ti serve qualcosa di importante che a Delia non hanno? Un farmaco salvavita? Un alimento per un'intolleranza? Dove vai? Mi chiamano sindaco e il mio cane mangia le crocchette che vendono solo a Caltanissetta. Ma questa la chiamiamo serietà. Ma questa la chiamiamo serietà. Lo chiamiamo buonsenso. Gente che ha i figli che vengono da fuori Sicilia, perché ormai siamo tutti in zona rossa, e i familiari escono. E li dobbiamo richiamare noi. Oggi, di domenica, tantissime persone in campagna arroste le carni, a fare barbecue. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli nel condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutti questi buoni vicinato ci sono a Delia. Tutti questi buoni rapporti vicinati ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare il cartellone, perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Quello è rischio contagio. Lo capito o no? Stare a casa non significa fare venire persone per fare cugineggia a 20 a 30. Ma di chi stiamo parlando? E qualcuno mi dice, è sindaco, dobbiamo ringraziare quelli che rimangano a casa. No. Io ho pensato a questa frase. No. Quelli che rimangano a casa stanno facendo il loro dovere. Che oggi, ai caratteri dell'obbligatorietà, oggi è un obbligo rimanere a casa. Dobbiamo ringraziare a quelli che sono in trincea. Perché in Italia siamo bravi a capavolgere le cose. Dobbiamo ringraziare le migliaia di medici, di infermieri, paramedici, forze dell'ordine, vigili, associazioni di volontariato, sintaci, persone che siamo in trincea noi, in mezzo alle strade, per proteggere la moltitudine, che se ne fotte. Diceva il sindaco di Niscemi, il mio collega, si cazzeggia, è vero, si cazzeggia. Siamo stressati a stare a casa, stiamo stressati. Con il telefono, la connessione internet, la televisione, il mangiare, la playstation, siamo stressati. Stressati dei nostri nonni che andavano in guerra, non quelli che si rimangano a casa. E che cantiamo azzurro, azzurro dai balconi se poi usciamo a fare la spesa ogni giorno? La coerenza dov'è? La coerenza dov'è? Il rispetto dov'è? Nostre degli altri. Ma la vogliamo finire o no? Io oggi già con la protezione e con la polizia municipale abbiamo denunciato persone all'autorità giudiziaria e continueremo a farlo. Io oggi di domenica sono uscito per andare a redarguire persone, persone grandi e vaccinate, però sono le persone che da stanotte mi mandano i messaggi. Sì, ma chi è questa signora? Ma come dobbiamo fare? Però poi usciamo, perché il problema è sempre degli altri. Il problema è sempre lontano da noi. Però giochiamo col sederino di tutti e con la responsabilità mia, dei carabinieri, dei medici, di quelli che siamo in strada per voi. La reputata correttezza questa, signori, scusatemi, la reputata correttezza non è correttezza. È egoismo, cretinaggine, stupidità, superficialità. E qualcuno mi dice che non dobbiamo allarmare. Come non dobbiamo allarmare? Come non dobbiamo allarmare? Una pandemia c'è, non è più un'emidemia, una pandemia e non dobbiamo allarmare? Quando si deve allarmare la gente? Se non si allarma più una pandemia, scusatemi, quanto si deve allarmare la gente? Vogliamo fare i seri o no? Vogliamo fare le persone diligenti o no? Le cutiregge a casa? Tutti campassero cutiregge con gli amici? Ma veramente qualcuno ce l'ha in testa il neurone? Ce l'ha qualche neurone? O sono tutti spenti questi neuroni? e poi magari mi si sinta qua e le occhiaie. Sei stanco? Ti devi riposare? Come mi devo riposare io? Come mi devo riposare io? Che rischio ogni giorno? Come gli altri? Come i medici? Come i vigili? Come i carabinieri? Come gli infermieri? Come l'associazione di volontariato? Come gli osa? Gli altri siamo quelli che rischiamo. E quelli che rimangano a casa stressati? Stressati? devono uscire. La corsetta? La passeggiata del cane? Vengono persone davanti a casa mia che stanno in tutt'altro punto del paese. Ma questo cane quante volte la va a fare la pepe? Il cane deve uscire nella zona limitrofa a casa a volte e ritornate a casa, non una passeggiata. Le persone col passeggino vanno da mia sorella. Ma dove vai da tua sorella? A casa, chiedi? Lo capisci o no? Spero di essere stato chiaro, signori. Spero di essere stato chiaro. Di essere stato chiaro. Comunque sappiate che ormai stiamo passando non più agli avvisi ma alle denunce. Perché è giusto che chi sbaglia paghi. È giusto che chi sbaglia deve essere sanzionato e denunciato. Perché qualcuno evidentemente non riesce a collegare ancora il cervello. E non è perché è lento, come ho detto nello scorso poste. Perché è ritardato. Perché è ritardato. Di questo si tratta. Grazie, signori. Buona serata a tutti.